Il naufragio della costa Concordia davanti all'isola del Giglio dimostra che questi enormi condomini galleggianti devono stare fuori dalla laguna di Venezia. La Concordia, come tante altre navi crociera della costa, ma anche di altre compagnie, questi enormi palazzoni che passano davanti ai veneziani nel canale della Giutecca, davanti alla Basilica di San Marco, sono delle mine vaganti, sono a dir poco, sono pericolosissime, avete visto le dimensioni di questi bastimenti, 4 mila persone a bordo, mille uomini di equipaggio e poi in casi di incidenti come questo, di questi naufragi, i danni sono incalcolabili, non solo in termini di vita umane, ma anche in termini economici e anche per quanto riguarda le conseguenze ambientali, perché ci potrebbe essere un travaso di carburanti adesso proprio davanti al Giglio e immaginatevi se dovesse accadere di quale disastro si tratterebbe. Quindi fuori dalla laguna queste navi, l'abbiamo detto tante volte, migliaia di veneziani protestano ogni giorno, anche oggi c'era una manifestazione alle Zattere contro il passaggio di queste navi, tanti cittadini che non vogliono vedere Venezia invasa da questi enormi casermoni galleggianti e quindi bisogna che il Comune di Venezia, le autorità marittime, il governo se si tratta di imporre una scelta che magari a livello cittadino qualcuno non gradisce, bisogna finalmente decidere di lasciarle fuori, perché quello che tutti i domani diranno, ma non succederà mai a Venezia, non potrebbe mai succedere, non ci sono gli scogli, ma qui una nave si può incagliare comunque, si può arenare e si può comunque rovesciare, quindi con le conseguenze che abbiamo visto anche all'isola del Giglio. Non c'è tempo da perdere, questo terribile naufragio in Toscana, nelle acque davanti alla Toscana, deve convincere tutti, anche i più riducibili, anche quelli che contano sull'arrivo di migliaia di turisti in più come se non ce ne fossero abbastanza. Pensate, sono stati 25 milioni i turisti che hanno calcato Calli e Campielli di Venezia l'anno scorso, 65 mila al giorno e gran parte di questi sono portati da questi mastodonti. Lasciamoli fuori di qui e che la gente arrivi normalmente a piedi e in vaporetto.